Almeno 6 milioni di visitatori e un indotto di 3.000 lavoratori, di cui 700 diretti. Tanto varrà come ricaduta sul territorio il progetto FICO, il parco tematico di Italy sull'agroalimentare, in costruzione a Bologna. FICO è stato presentato ufficialmente a Expo Milano alla presenza del fondatore di Italy, Oscar Farinetti, con la partecipazione di Andrea Segre, presidente del CAB, e del sindaco Virginio Merola, insieme al presidente della regione Stefano Bonaccini. Farinetti ha annunciato che l'apertura di FICO e il ritardo rispetto alle stime iniziali dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2016 o all'inizio del 2017. Lavori di rilievo se si pensa che l'area di FICO, che sorgerà nello attale CAB, il centro agroalimentare di Bologna, occuperà circa 80.000 metri quadrati. Mi sarebbe piaciuta l'apertura di FICO dopo la chiusura di Expo, ha dichiarato Farinetti. Non sarà così, ma andrà bene ugualmente. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ai microfoni dell'agenzia di stampa dire, ha spiegato come dalla rassegna ci si attendano circa 6 milioni di visitatori, 4 dalla regione Emilia-Romagna, 1 dalle altre zone del paese e 1 dal resto d'Europa del mondo. Merola definisce l'iniziativa di FICO Italy World come un'occasione per valorizzare il territorio, che può avere ricaduti influenti sull'economia, a iniziare da un indotto di partenza di 3.000 lavoratori più 700 dipendenti diretti, in particolare giovani.